Ciao a tutti ragazzi, sono Cappello Rosanero e finalmente siamo qui per dare l'ufficialità di Filippo Ranocchia Giocatore che io onestamente volevo fare un video prima riguardante il suo arrivo al Palermo Però ho voluto aspettare perché, porca puttana, tutti i nomi che venivano affiancati al Palermo O non gliene fotteva un cazzo del Palermo o se li pigliavano altri, soprattutto un cazzo di Cagliari Che ogni volta 10 nomi al Palermo e 10 nomi gli stessi antichi nomi sono nella lista del Cagliari Vedi un po' te che cazzo di... che problemi ha Ranieri? Ci odia? Ranieri viccelo, ci odi? Non lo so Filippo Ranocchia che abbiamo acquistato direttamente dalla Juventus La squadra che deteni il suo cartellino ha circa 3,5 milioni di euro Più eventuali bonus legati immagino al posizionamento in classifica Avevo già fatto un mini recap di quello che è il giocatore Ma lo rifaccio questa volta dicendo anche alcune parti che magari non ho detto nel video scorso Allora, Filippo Ranocchia, nato a Perugia il 14 maggio del 2001 Quindi alla fine è un ragazzo giovane Ha 22 anni che deve ancora compierne 23 quest'anno Ha giocato prettamente nel Perugia per poi andare alla Juventus Dove ha giocato in under 23 Ovvero la seconda squadra della Juventus, non la prima squadra, quella che giochi in Serie A Per poi andare rispettivamente nel Vicenza, nel Monza e infine nell'Empoli C'era anche un piccolo problema effettivamente dovuto all'Empoli Perché la squadra toscana non era convinta di mandare via il giocatore in questo momento Però come io ho detto anche nell'altro video Alla fine è la Juventus che deteni il cartellino e può farci il cazzo che gli pare Può volendo richiamarlo in casa base Penso che si paghi un piccolo, non lo so, multa? Non so come si dica in questo termine tecnico Però gli deve pagare forse una penale, ecco, all'Empoli Per richiamare il giocatore e venderlo appunto a chi vuole In questo caso il Palermo Si tratta di un giocatore abbastanza alto, 1,86m Infatti ha iniziato a giocare facendo l'attaccante Per poi alla fine ritrovarsi a fare un centrocampista Da centrocampista completo Infatti gioca prettamente appunto nel ruolo di centrale Ma può ricoprire anche il ruolo di mediano e trequartista Anche se per il momento ha giocato più partite come mediano Ma comunque sia è un giocatore che ti può fare prettamente tutti i ruoli di centrocampo Grazie al suo passato di attaccante Infatti Ranocchia è dotato di una grande visione di gioco e di tempi di inserimenti Motivi per i quali soprattutto durante il suo periodo a Vicenza Veniva utilizzato anche nei ruoli di mezzala Ma anche da regista Quindi diciamo che, come ho detto prima, mi sto ripetendo Non so, scusatemi È un tutto, è un calciatore completo Ecco, è il classico centrocampista che a centrocampo Fa il cazzo che gli pare Ovviamente si tratta di un giocatore che è prettamente legato al gioco di squadra Non è un goleador Anche se comunque sia i suoi gol li ha fatti Infatti guarda ovviamente i suoi dati Infatti comunque sia non è un giocatore che ha fatto tanti gol o tanti assist in carriera Qua ovviamente sto guardando i suoi dati Con la Juventus ha segnato 4 gol e 3 assist in totale Vicenza un gol e 3 assist Al Monza un gol e un assist Poi ovviamente qua ci sono anche dati delle giovanili Ma non ci interessano più di tanto Quindi è un giocatore che a centrocampo Fa così Si guarda a destra, si guarda a sinistra Fa gli inserimenti, i passaggi È un giocatore che fa da metronomo È il classico giocatore che dovrebbe dirigere l'orchestra Va bene, è il direttore d'orchestra Filippo Ranocchi il nostro direttore d'orchestra Diciamola così e va bene così Ovviamente io non ho tante aspettative di Ranocchia Per il semplice fatto che alla fine ci troviamo in un momento in cui Siamo una squadra di merda ragazzi Dobbiamo guardarci negli occhi e dire Siamo una squadra in questo momento di merda Per tanti mia motivi Non perché ci manca quel giocatore a centrocampo Ci manca tutto il resto Ok ragazzi Filippo Ranocchia è un giusto innesto che serve sempre Soprattutto con un Koulibaly che è più in infermeria Che in campo La cosa mi dispiace ovviamente Ma l'avevo già anticipato in un video presentazione di Koulibaly In cui avevo fatto notare che il suo storico infortuni Non mi facesse impazzire E infatti così è stato Ha già avuto un infortunio abbastanza grave Che l'ha tenuto fuori dai riflettori per un bel po' di tempo Ovviamente ragazzi lo dico pure a voi Non vi dovete credere che Filippo Ranocchia risolverà tutti i problemi di questo mondo È il giocatore che deve occupare quel giusto buco Certo siamo un M in tal del cazzo che ci sono 10 miliardi di buchi sparsi qui e là Però quel buco lì lo dovrebbe riempire Salvo ovviamente infortuni Che ovviamente guardando anche il suo storico infortuni Il ragazzo ha avuto i suoi problemini fisici Ma non gravi quanto quelli di Koulibaly Qua infatti vedo che ha dovuto saltare 4 partite Più 3, più 3, più 6, più 1, più 2 Che messi insieme Fanno pochissimo Alla fine sono infortuni che a tutti capitano I giocatori mi riferisco Quindi non dovremmo teoricamente Avere problemi con Ranocchia Ovviamente Ancora non si sa il numero di maglia Non si sa Non c'è ancora la presentazione Quella in pompa magna C'è giusto il comunicato sul sito ufficiale del Palermo Anzi qua c'è scritto che Filippo Ranocchia Sarà presentato in conferenza stampa Oggi pomeriggio alle Ah ok Alle 5, meno un quarto Al Renzo Barbera Quindi questo pomeriggio Ovviamente non so quando farò uscire il video Spero ovviamente in giornata Vedremo la presentazione del ragazzo E sapremo anche che numero di maglia avrà Ripeto Io mi aspetto Che lui non faccia danno Che abbiamo 10 miliardi di problemi Il massimo che mi aspetto da Ranocchia E che a centrocampo Non faccia danno Poi per tutto il resto Bisogna vedere anche come vanno La questione degli acquisti In difesa Gli acquisti in attacco Cioè ragazzi Non è che il problema è il nostro centrocampo Io Ranocchia L'ho visto giocare È un giocatore molto valido Che può essere ancora limato Ovviamente per quanto riguarda Perché è giovane 22 anni Fra un po' di fa 23 Può essere ancora Migliorato Ma già di per sé È un ragazzo più che valido Vedremo Vedremo come va a finire Noi ovviamente Ci vediamo per il prossimo O recap di mercato O per la prossima Ufficialità Sperando che il Cagliari Non ci rompi i coglioni Anche per il prossimo Ciao ragazzi E' un ragazzo più che valido E' un ragazzo più che valido